appuntamento con i giornali come tutte le mattine la nostra edicola virtuale aperta e cominciamo subito con la lettura dei giornali prima però come ai vecchi tempi il calendario il calendario dove troviamo il santo del giorno oggi la chiesa cattolica ricorda una santa nata nel 1799 a barcellona e ha dedicato tutta la sua vita paola montals forne ha dedicato tutta la sua vita all'educazione cristiana delle bambine delle ragazze pensate che quando è morta nel 1889 le religiose delle scuole pie che aveva fondato erano 349 e gestivano 19 collegi il sole è sorto le 6 50 tramonterà le 17 52 allora il cielo oggi sarà nuvoloso con deboli precipitazioni isolati piovaschi durante la notte del primo mattino notte quella che abbiamo appena trascorso pomeriggio deboli precipitazioni sparse nelle zone interne domani eccola qua la giornata di domani sabato 27 cielo nuvoloso con deboli precipitazioni intermittenti più probabili nella prima parte della giornata domenica ancora tempo brutto vedete deboli piovaschi limitati alle zone interne e settentrionali in mattinata per poi estendersi al resto del territorio nel corso del pomeriggio e sera lunedì martedì avremo condizioni di instabilità quindi stiamo già parlando della prossima settimana ma arriverà anche un miglioramento dalla serata di martedì primo marzo andiamo a leggere i giornali allora cominciamo dalla prima pagina del resto del carlino la fotonotizia è per il manuale antifurti che è stato presentato ieri in prefettura un manuale che un vademecum che è stato distribuito a negozi locali pubblici un decalogo insomma per proteggersi contro ladri e truffatori niente armi però dicono quelli delle forze dell'ordine non fate gli sceriffi non fate tutto da sole chiamateci invece state accorti per quanto riguarda la prevenzione con tutte le tecnologie telecamere quant'altro che si possono mettere in campo e nel caso malaugurato doveste avere la visita dei ladri ecco cosa fare per non inquinare le prove eccetera eccetera poi l'ex bomber che ha fatto gol al tumore dico grazie ai ragazzi Walter Spina di 66 anni ora è tornato ad allenare poi altre notizie che adesso andremo a leggere man mano nel corso della rassegna intanto cominciamo dalla pagina di Fano dove come tutti gli altri quotidiani mette in evidenza in primo piano la cronaca una coppia la vedete in queste tre immagini tre fotogrammi allora andiamo ad evidenziarle vedete sono un uomo e una donna una coppia di ultraottantenni che stanno effettuando il prelievo al banco ma vedete questi tre signori li marchiamo rossi perché sono i delinquenti eccoli qua questi tre che sembrano essere tre comuni passanti in realtà sono tre persone tre malviventi che stanno addocchiando la coppia che sta facendo il prelievo la signora vedete con la borsa a un certo punto insieme al marito se ne esce se ne va e va per per andare in macchina e i tre balordi chiaramente pedinano la coppia al momento opportuno cosa fanno bloccano e qui c'è la vignetta che ci viene in aiuto perché non ci sono le immagini di john betty bloccano il l'uomo l'anziano e lui dice raccontando ancora sotto shock l'aggressione in auto i banditi tenevano una mano sul mio viso e quindi mi impedivano di respirare allora ho suonato il clacson uno di questi alla fine è stato dopo lunghi mesi di indagini arrestato si tratta di un tunisino di 38 anni con precedenti per spaccio e senza fissa dimora e un altro invece ricercato addirittura in tutta europa lo hanno trovato qui vicino a ponte sasso di fano si tratta di un quarantenne moldavo che è stato fermato l'altra sera per un controllo dagli agenti del commissariato di pulizia di fano è stato preso intorno alle 18 e 30 i vaccini sul problema dei vaccini oggi il resto del carlino torna perché il dibattito non si è concluso affatto sui vaccini pediatrici fano tiene pesaro no dopo il caso di meningite di una bambina di tre anni colpita a fossombrone la fotografia sulla situazione nelle nostre zone chi sceglie per il no viene segnalato al tribunale dei minori e ai servizi sociali ma non ha conseguenze il resto del carlino questa mattina pubblica anche la testimonianza di una mamma che racconta per ecco perché dissi no a quelle punture questa donna che si chiama elena 40 anni una bimba di 7 pensate che non ha mai vaccinato qui ci sono le sue ragioni che uno può leggere poi si fa un'idea addio invece a graziano bocchini imprenditore con l'anima rock si è spento a 51 anni graziano bocchini detto ciano fa parte faceva parte del complesso fanese dei black star come voce solista qui c'è anche una fotografia una fotografia di un po di tempo fa la cerimonia religiosa si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 nella cattedrale di fano andiamo nell'entroterra le pagine dell'entroterra dalla valmetauro il progetto dell'unione roveresca e della cooperativa articolo 32 sanità a basso costo ma di alto profilo ecco il poliambulatorio sociale si tratta di una struttura che sorgerà a ponte degli alberi questione di settimane entusiasta naturalmente antonio sebastianelli sindaco san giorgese e presidente dell'unione da pesaro invece il comune con matteo ricci in testa ha deciso un giro di vite con multe e sequestri contro gli accattoni coloro che chiedono qualcosa qualche spicciolo in cambio del posteggio aiutandovi a far manovra eccetera eccetera dopo il caso del parcheggio carducci il sindaco passa ai fatti aveva detto l'assessore della dora ora tutte le forze di polizia ci aiutano ci aiutano a risolvere il problema lo spirito del provvedimento vedete l'ordinanza punta alla confisca della merce questo quello a cui punta appunto questo questo provvedimento sul sant'arcangelo eccolo qua torniamo a fano il comune punta 2 milioni e 400 mila euro ci riusciremo grazie all'archistare italo rota l'architetto italo rota con il suo progetto della fabbrica del carnevale che concorre al bando regionale e non sarà solo un museo ma sarà anche la casa del jazz e un ostello della gioventù andiamo adesso invece sulla sul correa adriatico cominciamo dalla pagina di fano la pagina di fano naturalmente è una pagina dove si apre con la vicenda di quei due coniugi pedinati e rapinati sopra il racconto della vittima mi hanno tappato la bocca non respiravo l'ottantenne ha reagito suonando il clacson e riuscendo in questo modo a mettere in fuga i malviventi sotto invece condannato a cinque anni lo scippatore seriale in scooter qualcuno se lo ricorderà era il rapinatore centauro della città della fortuna anche se qui la fortuna per le vittime c'entra poco a bordo del suo scooter con il volto travisato dal casco integrale un quarantenne fanese prendeva di mira appunto delle signore a piedi oppure in bicicletta le speronava quindi le andava addosso proprio e dopo essersi impossessato di borse e portafogli se la squagliava a tutto gas è stato condannato a cinque anni sulle cure palliative fanno invece a tutte le carte in regola domani ci sarà un convegno che rilancia il progetto dell'associazione maruzza di elmo santini per un centro pediatrico la regione dice elmo santini risparmierebbe 21 milioni ma all'ospedaletto vogliono ricavarci invece degli appartamenti mentre l'ex zuccherificio tra le tante proposte che sono arrivate sulla destinazione di quell'area su cosa fare in quella importante importantissima area strategica all'ingresso di fano si pensa a un palazzetto dello sport e a un villaggio turistico i portatori di interessi chiedono di superare il dibattito sulla destinazione commerciale sempre dal corriere l'altra pagina lo scuolabus siamo a orciano scuolabus elettrici e impiego del biometano l'unione roveresca scommette sul futuro pronta a istituire anche un laboratorio nelle oil free zone il presidente sebastianelli dice il nostro non è un libro dei sogni ma sono obiettivi che raggiungeremo entro l'anno la pagina di senigallia del corriere adriatico ruba nella cassaforte dell'hotel un giovane è stato è stato denunciato 22 anni che nei giorni scorsi aveva alloggiato appunto nell'albergo un cittadino italiano è stato identificato dagli agenti del commissariato adesso invece la pagina la pagina di pesaro urbino la mamma saluterà le sue due bambine morte durante l'incidente nel corso di un incidente stradale rosaline forse trasferita all'ospedale di urbino per l'addio alle figlie geni arianna in camera mortuaria ricordiamo e siamo a sant'angelo invado che i funerali di queste due sfortunate bambine morte nel tragico incidente stradale di cala agostina si terranno domani alle 15 nella cattedrale del centro vadese di sant'angelo invado il sindaco gianalberto luzzi ha proclamato il luto cittadino dalle 13 alle 18 dello stesso giorno in segno di condivisione del dolore con la famiglia ma anche per favorire la partecipazione ad una cerimonia che coinvolgerà l'intera comunità che si è stretta davvero in maniera esemplare davvero rodevole attorno a questa sfortunata famiglia che è originare del benin il messaggero chiudiamo siamo in chiusura il messaggero la pagina di pesero anche qui la cattonaggio scatta la linea dura del sindaco di pesero ricci firmata un'ordinanza che vieta le lemosine in centro piazzale carduce vicino all'ospedale pugno di ferro del comune contro posteggiatori abusivi e lavavetri multe salate e sequestra centro pagina vedete la coppia rapinata a fano poi esportazioni di opere d'arte l'avvocato sciauo patteggia due anni giallo del leonardo finito in svizzera l'avvocato esce di scena il sequel degli sbancati ecco qui il film in dialetto fanese conquista anche i pesaresi il film cult in dialetto fanese del regista secchiaroli fa boom anche nel capoluogo poi sugli ospedali di comunità meno dei surgery più cure intermedie i 13 presidi da riconvertire ambulatori di base e specialistica prevale un modello di assistenza tra intensiva e lungodegenza poi mendicanti e postiggiatori ancora linea dura del sindaco e poi andiamo sulla pagina di fano cure palliative per i bambini nessuna risposta la difficile battaglia di elmo santini presidente dell'associazione maruzza per creare un centro nell'ex ospedaletto che ancora è chiuso da tantissimi anni e che è ancora lì insomma fermo ha scippato in scooter decidi donne condannato un quarantenne fanese il pubblico ministero aveva chiesto sette anni e sei mesi di reclusione il giudice gli ene ha risparmiati praticamente due amarotta lavori in corso al sottopasso traffico deviato e tanti disagi con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata vi ricordo l'appuntamento di questa sera le 20 e 30 con il nostro telegiornale occhio la notizia e poi la nostra applicazione se avete un cellulare già a portata di mano andate sull'applicazione su google play se avete un android oppure andate sull'apple store se avete un cellulare un iphone e scaricate cercate digitate occhio alla notizia e scaricate gratuitamente la nostra applicazione che vi consente anche tra l'altro di ricevere perché non lo facciamo sempre per non disturbare troppo ma quando ci sono gli alert i cosiddetti alert cioè le notizie di fondamentale importanza come può essere un evento meteo piuttosto che un fatto di cronaca molto importante ecco chi ha la nostra applicazione riceve una notifica e quindi gli dà davvero la possibilità di essere aggiornati in tempo reale il tempo di preparare la notizia di verificarla noi poi la inseriamo subito e la notifichiamo subito alle nostre centinaia e centinaia di persone che hanno già questa applicazione nel telefono abbiamo già siamo più di 1500 1500 download quindi è un per noi importante insomma grazie per averci seguito buona giornata